vedere in diretta con scrivendo il meliaghetto questo le mangime questo del meliaghetto i miei foregidi le ninfee vediamo se nessun qualcosa a mangiare vediamo le affranesie alimentare dobbiamo vedere che c'è dei carassi dei pesci rossi dei pesce gatti che me ne è morto uno anche ieri dio e potasio a me quando guadagnare a pesce mi regolo come il meliaghetto se qua vedo che le affranesie alimentare che pesce e maglia da fame non avevo pesce se vede che butto e mangime non vedo che non maglia un cazzo qua sull'arretto quel cazzo come pesce inquadremo in me giardini ma che beigigli ho la mattanza